A distanza di un mese dal violento nubifraggio che lo scorso 25 novembre ha colpito la città di Sciacca provocando danni ingenti, tutto è ancora fermo e ciò che stupisce è il silenzio del sindaco Fabrizio Di Paola. E' questa la critica mossa oggi nei confronti del primo cittadino dai consiglieri comunali di patto per Sciacca Mario Turturici e Salvatore Monteleone per i quali non è sufficiente né tantomeno può tranquillizzare lo sfogo di ieri del vice sindaco Silvio Caracappa che come è noto ha accusato la regione di aver abbandonato il comune di Sciacca. Nonostante sia trascorso ormai un mese dall'alluvione, osservano i due consiglieri, tutto appare incredibilmente fermo, non si ha notizia dell'arrivo di finanziamenti e diverse zone della città sono ancora in ginocchio. Turturici e Monteleone avevano chiesto all'amministrazione di attivarsi per la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo con la nomina di un commissario straordinario, lo stanziamento dei fondi necessari per gli interventi infrastrutturali e il risarcimento dei danni subiti da privati attività produttive, sollecitando anche l'urgente attivazione di un tavolo tecnico per la programmazione dei necessari interventi di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, visto che la città anche in passato è stata interessata da fenomeni alluvionali. Chiediamo al sindaco, concludono i due consiglieri di patto per Sciacca, di assumere una ben più forte posizione, visto che può contare sulla autorevole presenza di ministri del suo stesso partito politico, riconfermati nel nuovo governo Gentiloni, e sul dichiarato sostegno del nuovo centrodestra al governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Grazie a tutti.